Anche la Spagna si avvia verso il picco previsto in meno di una settimana o forse verso il plateau come è stato chiamato in Italia. Anche Madrid aspetta l'appiattimento insomma una volta e per tutte della curva del contagio da coronavirus che ha smesso di salire verticalmente anche se il bollettino delle vittime oggi racconta ancora di una tragedia nazionale. Ci sono scritti 864 nomi, sono morti in 24 ore, un nuovo record e da ormai 5 giorni la Spagna supera le 800 vittime quotidiane. In tutto questo ci si aggrappa all'unico segnale positivo. La crescita dei nuovi contagi è intorno all'8%, questo ci dice che siamo in uno stadio di stabilizzazione della pandemia. Infatti se ci focalizziamo sui casi ospedalizzati, che sono i soli con cui possiamo essere precisi nello studio dell'evoluzione della malattia, la percentuale di crescita è anche più bassa. La regione di Madrid e la Catalogna sono le zone più colpite. A Barcellona centri sportivi vengono attrezzati come presidi sanitari. Il numero di pazienti in terapia intensiva ha oltrepassato di molto la normale capacità in 8 comunità autonome. I medici ammettono che a volte non hanno potuto prendere in carico i pazienti. Intanto le misure di confinamento diventano più restrittive e in sempre più comuni per impedire che le persone facciano spesa tutti i giorni.